C'è un gruppo di una quindicina di amici, misti, uomini e donne, che fanno sempre le stesse cose il sabato sera. Allora la sera fanno così, ma perché non organizziamo una bella orge, invece di fare sempre le stesse cose? Tutti d'accordo, si radunano dentro casa di uno, si spogliano tutti nudi e si buttano sul letto, spengono la luce e parte l'orge. Passa una mezz'oretta e a un certo punto si sente a fare così, e qui tocca che sto organizziamo! Una scena alla luce, c'è uno in piedi che fa, ma che hai fatto? E sto tre volte con uomo via al culo, ancora non ho toccato la zinna!